Rieccomi, ciao, ciao a tutti, bentornati e bentornate o bentrovati, se siete appena passati di qua e non mi conoscete, io sono Eli, Eli Valsecchi e niente, questo è il mio canale. Ragazzi sono davvero imbarazzata, cioè tantissimo tempo che non registro e sono un attimo in agitazione ma so che sono tra amici e quindi poi mi conoscete, cioè io sono la regina delle figure, quindi va bene così. Allora, come è andata la vostra estate? È andata bene? La mia estate è andata benissimo, non è stata un'estate rilassante dal punto di vista fisico, guardate che capelli, sembro una pazza, mercoledì andrò dalla parrucchiera per fare il total grey, vedremo cosa succederà. E nulla, allora, tutto ricomincia a settembre, settembre mese di bilanci, per me è come se cominciasse l'anno nuovo, per me l'anno di solito ricomincia a settembre e non a gennaio, con tanti progetti dove sono sicura non ne porterò a termine neanche uno, o comunque magari su 100 progetti uno lo porto a termine, ma va bene così, va benissimo così. Allora, è stata bella, molto bella, le vacanze sono andate benissimo, ho anche camminato tanto ragazzi, ho camminato tanto, comunque mi è piaciuto un sacco, ho cucinato tantissimo e in più a settembre sono stata impegnata nella festa dell'oratorio, abbiamo fatto 4 giorni full time, mi hanno chiesto di fare la responsabile della cucina per la prima volta ed è stato per me un lavoro sia a livello di testa che a livello fisico proprio di lavoro, cioè molto molto pesante, davvero molto faticoso, ma che mi ha regalato tantissimo, mi è piaciuto davvero tantissimo, lo rifarei sì, tra un anno però, e quindi sono riuscita a fare nulla dal punto di vista dei social, se avete visto sono un po' sparita, mettevo ogni tanto qualche mi piace quando riuscivo a entrare, ma davvero ho fatto le due settimane, cioè praticamente da quando sono tornata dalle vacanze, quindi l'ultima settimana di agosto fino a questa settimana, prima con l'organizzazione dei turni, dell'approvvigionamento dei cibi, dell'organizzazione dei menù, poi ovviamente nei giorni in cui c'è stata la festa ero praticamente giù dalla mattina alla sera, cioè dal pomeriggio alla sera perché poi alla mattina lavoravo così, tanto perché dovevo lavorare e si finiva sempre tardissimo ed ero veramente veramente stanca, però ripeto mi è piaciuto tanto, mi è stata un'esperienza bellissima proprio di comunità, di condivisione che mi ha dato molto di più di quello che io ho dato, ecco, però era stato fisicamente molto pesante e io non ho più l'età per fare queste cose, mi sono resa conto, ma vabbè, finché riesco le faccio, e quindi nulla, cioè non sono riuscita praticamente né a registrare, a guardare qualche video, ma ogni tanto mi addormentavo proprio sul pc, perché sapete che io i video li riesco a vedere solo sul pc, perché sono belli grandi e la mia vista non è più quella di una volta, e quindi niente, adesso siamo ritornati, la scuola è ricominciata, tutte le varie attività sono ricominciate e pian pianino ricomincio anch'io, spero che tutti voi abbiate passato una bellissima estate, sia in vacanza oppure a casa, ma che comunque vi siate rilassati e abbiate potuto godere un po' di pace, tranquillità, di questo caldo estenuante che mi ha veramente distrutto e sarà sicuramente così per tutte le estate, io ho fatto una fatica quest'estate che voi non avete un'idea, ma chi è in menopausa l'idea ce l'ha, e nulla, con cosa ricomincio oggi con il video dei prodotti casa finiti, perché è quello che ho a portata di mano, ho qui tantissime cose che ho finito, devo assolutamente svuotare il bagnetto perché avevo dentro l'ira di Dio, e quindi comincio con un video che sono sicura piace sempre a tutti, perché dai prodotti provati poi si riesce a capire quello che ci piace, quello che non ci piace, quello che fa per noi, ah ma guarda l'Eli l'ha comprato allora lo provo anch'io, che è quello che succede a me quando poi vedo gli altri video dei prodotti finiti, e quindi bando alle ciance, iniziamo subito, anzi no, prima di iniziare vi volevo ringraziare perché davvero in tanti, tanti, tanti mi avete scritto sui social, mi avete scritto privatamente per sapere dove ero, se mi era successo qualcosa, ragazzi tranquilli non mi è successo niente, però secondo me ogni tanto è anche bello staccare, oltre al fatto che non avevo veramente il tempo fisico per stare sui social, ma è anche bello staccare per avere poi la voglia di ritornare, e per me è così, ho tante cose da farvi vedere, ho tante cose da raccontarvi, tanti acquisti, tanti acquisti da farvi vedere, ma ne parliamo nei prossimi video. Oggi iniziamo subito con il video dei prodotti casa finiti, quello che ho finito, quello che mi è piaciuto, quello che non ricomprerò più. Qui ho due gigantesche borse, spero non travacchi tutto, e ve lo dico. Allora, madonna mia cade giusto. Finito questo ammorbidente, fabuloso, al cocco e fiori bianchi, una meraviglia. Un profumo di cocco e di vaniglia, di fiori bianchi, sui panni che morbidi, veramente morbidi, un profumo celestiale, un profumo di estate, un profumo di cocco, io l'ho sempre detto che il fabuloso per me è uno degli ammorbidenti più buoni, riconfermo soprattutto questa fragranza, questa fragranza si sente tantissimo sui capi, anche dopo giorni che sono stati lavati sulle salviette, poi c'è aromaterapia, secondo me. Quindi sicuramente lo ricomprerò, magari non adesso, perché comunque la fragranza cocco potrebbe non essere più indicata, ma chi se ne prega, anche se non è più estate. E quindi, in sconto o non in sconto, questo sicuramente lo ricompro. Mi è piaciuto davvero tantissimo. E buttiamo nella borsetta. Questo non ha bisogno di presentazioni, io mi trovo benissimo, lo continuo a comprare, a ricomprare, ne ho già comprati due in scorta, ne ho finiti forse due, anzi ve li faccio vedere entrambi, perché vuol dire che non mento. Ne ho finiti due, per me è un rapporto qualità-prezzo favoloso, lascia i capi scuri, neri, non soltanto i neri, io lo uso proprio per tutti i capi scuri, li lavo a 40 gradi, sono puliti, profumati, igienizzati, insomma, per me questo al momento è uno dei migliori. Anche se poi ho comprato nell'ultimo acquisto da Tigota, che vi farò vedere, un acquistone gigantesco perché avevo un botto di sconti da 30 euro e vuoi Eli non approfittarne, ma approfittane Eli, approfittane. E niente, quindi ho comprato il soft che mi sta piacendo, ma non come lui, non come lui, secondo me questo è il migliore, è il migliore, davvero, buono, buono, buono. Io lo trovo al MD e non all'Eurospin, all'Eurospin non trovo mai un cascio, ma fa negot, non fa niente, e lo trovo all'MD e ogni volta che vado all'MD io lo compro di scorta perché ne uso in quantità industriale. Quindi questo ottimo e ve lo consiglio. C'è un video che parlo di detersivi, uno svuota la spesa forse, o detersivi per la casa, poi ve lo metto nelle schede, ma secondo me questo è il migliore. Poi, acido muriatico della Primia, io l'acido muriatico lo uso molto spesso per i gabinetti, per il bagno, per la detergenza delle superfici della casa, non tanto perché è abbastanza corrosivo, però io nel water una volta ogni 15 giorni, una volta ogni 3 settimane lo butto dentro che sgorga bene e praticamente è l'unico uso che faccio dell'acido muriatico, però ne ho sempre, ne ho uno per ogni bagno, io ho 4 bagni, quindi li vedrete ogni tanto che finiscono perché lo uso solo ed esclusivamente per questo. Quindi ogni marca mi va sempre bene, non ho una preferenza, quello che fa lo fa di qualsiasi marca e va bene. Ho finito e consumato, c'è anche l'altro, sì tutti e due, ve li faccio vedere in coppia, questi che avevo comprato da Lidl su consiglio di Elisabetta R, ciao Eli se mi stai guardando, grazie anche te per avermi iscritto, per sapere dove ero finita. Mi sono piaciuti, sì, ovviamente tutti questi profumatori, anche quelli più buoni secondo me, dopo un po' di giorni perdono un po' l'intensità del profumo. Comunque io salivo, ne ho messo uno sull'anticamera della prima scala e sul comode della seconda scala dove c'è la mia camera, il bagno e la camera hobby e devo dire che il profumo non era molto forte, era molto piacevole, mi è piaciuto, adesso ho, diciamo, riutilizzato il vasetto che era molto carino per metterci un altro profumatore. Non ho ancora trovato quel profumo che rimane per giorni, anzi se voi conoscete un profumatore per ambienti che davvero rimane per giorni, ditemelo perché io sono una patita dei profumi, anzi ero intenzionata a comprare la, non mi ricordo, il diffusore catalitico, si dice così, potrebbe essere, però vabbè costa parecchio quello che ho visto io, non mi ricordo neanche la marca, non mi ricordo più niente, già sono smemorata di mio ma stando così lontana poi da tutto questo mondo, non mi ricordo, sono intenzionata a comprare la, appunto il diffusore, mi pare catalitico si chiama, non sto dicendo una cagata, vero? Però vabbè, adesso non l'ho ancora comprato. Conad, profumo intenso, ammorbidente concentrato, di frutti rossi e paciuli, mi è piaciuto. Un profumo frutti rossi, sì, frutti rossi però non maturi, non so come dire, è vero che i ribes, i lamponi hanno comunque una dolcezza un po' asprigna, un po' acidina, ed effettivamente io la sento in questo ammorbidente, lasciava i panni profumati, quindi devo dire che, diciamo discreta qualità di profumazione e lasciava comunque i panni morbidi, perché poi vabbè io punto tanto sul profumo, se però l'ammorbidente non lascia i panni morbidi è inutile che lo uso. Mi è piaciuto, ho voluto provarlo, di solito non compro un ammorbidente della Conad, non mi ricordo perché l'ho comprato, forse era un'offerta, forse l'avevo visto pubblicizzato da qualcuno, ma mi è piaciuto, devo dire che mi è piaciuto, se mi capiterà ancora lo ricomprerò. Via Verde Eco Prima Sgrassatore Universale, questo mi è piaciuto, l'avevo pagato 1,49 al Liperal, questo non mi era piaciuto, esatto, non mi era piaciuto il profumo, non so di cosa profumi, vediamo se lo dice, non lo dice, sa proprio di sgrassatore senza nessun tipo di profumo, io l'ho usato non per la cucina, per la pulizia quotidiana del bagno, fa il suo lavoro, sì, va bene, non è una cosa che ricomprerei, lo dico sicuramente, per me il detergente super top dell'anno è il genio plus, la mousse bianca, cioè io quello non lo cambio con nessuno, ne ho comprati 5 per ogni evidenza, ma non li ho ancora finiti. Questo è lo sgrassatore al profumo di Marsiglia della Conad, compro sempre le ricariche quando le trovo, così lo uso principalmente per la biancheria, solo ed esclusivamente per la biancheria, colletti delle camicie, macchie sulle magliette dei ragazzi, un spruzzo, con le mani do una strofinatina, generalmente viene via tutto, anche perché i miei figli sono grandi, non è che hanno delle macchie come da quando erano bambini, quindi funziona, sui colletti delle camicie di Paolo funziona, va bene, qualsiasi sgrassatore devo dire che mi piace. Poi ho finito, Simo, Simona, Beauty Passion, ho finito un detergente piatti, renditi conto quello che avevo comprato alla mia prima incursione al DM, questo detergente piatti mi è piaciuto tantissimo, per quelle pochissime volte in cui lavavo i piatti, o comunque magari mi rimaneva lì un piatto, una scodella, poi adesso con il rincario energetico, va bene, cioè la lavastoviglie la faccio andare, ma se cerco di essere un po' più risparmiatrice, che poi va bene, spendo l'acqua calda del gas, quindi non so se quanto convenga non far andare la lavatrice o la lavastoviglie, se poi utilizziamo, cioè comunque alla fine della fiera, cioè gas ed elettricità sono le cose che utilizziamo per scaldare l'acqua e per varie cose, quindi anche volendo con la scufa quest'inverno, ok, non accenderò il riscaldamento, ma la linea è aumentata del 5-7%, quindi parliamone, va bene, non è questo il momento per parlarne, però se risparmio da una parte spendo da quell'altra, non so se anche voi avete fatto questi calcoli, io non sono una statista oppure un economista, ma se risparmio da una parte poi spendo da quell'altra, è solo il mio stipendio che non aumenta mai, ok, va bene, detergente piatti aloe vera, mi è piaciuto tanto, lasciava le mani comunque molto morbide perché io non uso i guanti per lavare nei bagni, i guanti in casa mia da cucina per le pulizie non esistono, mi è piaciuto se dovesse ritornare, che ritornerò sicuramente al DM, lo ricomprerò, mi è piaciuto veramente veramente tanto, anche se non lavo i piatti volentieri. Poi, Home Circus Candelgina Delicata, mi piace, mi è piaciuta, generalmente tutti i prodotti di Home Circus mi piacciono, smacchia, era viva i colori, secondo me non smacchia mai la candelgina delicata, anche perché ho visto un video di un ragazzo di cui non ricordo il nome ma che spiegava molto bene la differenza tra la candelgina delicata e la candelgina vera, io la uso per pulire i pavimenti perché con in giro codi il mio cagnolone ovviamente devo disinfettare molto spesso e volentieri, quindi la uso per pulire i pavimenti, la uso per disinfettare il lavandino della cucina ogni tanto, la uso nella baschetta della biancheria come igienizzante per i capi sia colorati che bianchi, non la uso come candeggiante perché effettivamente non candeggia, però questa mi piace, la ricomprerò sicuramente sì, se la trovo in offerta sì, ma anche qui non ho una marca particolare, additivo smacchiatore per capi bianchi elimina le macchie difficili della Conad, mi piace, mi piace anche perché ha la scatola di cartone, questo mi permette poi di travasarlo negli altri barattoli di plastica che ho e che riutilizzo, fa il suo lavoro, io lo metto proprio nella baschetta dell'additivo e devo dire che mi trovo bene, quindi sicuramente potrei ricomprarlo sì, poi ecco si vedi qua, questo era, eccolo qua, questo era il deodorante lipido per la bastoviglie di cui vi avevo parlato, questo l'avevo comprato, non ricordo se all'emmd e mi è piaciuto tantissimo, tantissimo, lascia la bastoviglie profumata, ma veramente tanto quando voi aprite, molto profumata, 60 lavaggi ma secondo me anche di più e poi la bastoviglie la uso parecchio, nulla che dirvi, è profumo di limone, neutralizza gli odori, è vero, si sente molto molto il profumo di limone e lascia proprio le stoviglie profumate, mi è piaciuto, mi è piaciuto tanto, il costo era veramente una stupidata, 1,29€, una cosa che non ricordo perché non l'ho segnato, ma mi è piaciuto tanto, quindi sicuramente lo ricomprerò e non ho ricomprati altri, non ricordo se qui o all'Eurospin, ma sono comunque buoni, sono validi tutti. Pulitore vetri della linea Aquam, prodotto professionale, fa sprendere finestre vetri cristalli, super veloce, niente alone, antipolvere, è vero, io con i prodotti di questa marca mi trovo benissimo e anche quello dei prodotti che ho usato per pulire le tende che secondo me non hanno uguali, mi piacciono tanto, niente, io li compro spesso sia che siano in offerta sia che non siano in offerta, questa marca la trovo al Tigotau. Ecco adesso io non mi ricordo più questo se era quello che mi piaceva o se era quello che non mi piaceva, vediamo qua che cosa ho, scusate, faccio, eccolo qua, allora, ora non ricordo se era quello, perché questi qua li avevo comprati, sono della stessa marca, ma come morbidezza e profumazione sono molto diversi, vabbè la profumazione è ovvio che sì, e non ricordo se questo era quello di Inso, no, scusate, lo facciamo in diretta così, bel disi subit, esatto, allora, ora ricordo, questo ai fiori bianchi non mi era piaciuto perché era molto molto liquido e mi dava l'impressione che non profumasse a dovere e né ammorbidisse, giusto, ammorbidisse si dice sì, questo che è della stessa marca ma alla lavanda, che sono tutte e due concentrati, stavo guardando se c'era una differenza, mi è piaciuto tantissimo, lasciava un buonissimo profumo di lavanda, era molto denso e i panni rimanevano morbidi, quindi se dovessi trovarli ancora in offerta, questi li avevo trovati in offerta, sicuramente ricomprerei questo alla lavanda, ma non ricomprerei questo ai fiori bianchi, poi è ovvio è che quello che piace a me magari non piace a qualcun altro, sentire i profumi, magari il mio naso lo sente in un modo, un'altra persona lo sente in un altro modo, chi più intenso, chi meno intenso, cioè sono proprio delle opinioni personali, molto personali, quindi magari qualcuno vede questo video e dice vado a provarlo, poi lo prova e dice no che schifo, il mio piasmia, no che schifo, non mi piace, faccio la traduzione simultanea, perfetto. Questo, Dexal Lavatrice 5 litri non mi è piaciuto, acqua sporca, mi sembrava quasi che non lavasse neanche, tabacco e vaniglia non pervenuto, il profumo non esisteva per me, lo sentivo dentro qua ma quando poi l'ho messo nella... no, non si sente neanche dentro qua ragazzi, no non mi è piaciuto, ho voluto provarlo ma negativo, non lo compro più, non so se c'è perché poi io vado, provo, non mi è piaciuto per niente, scusate, stava entrando il Mauri, adesso interrompo e andiamo avanti dopo. E te pareva che così devo anche fare il taglio nel video che manco mi ricordo più come si fa, comunque il Mauri se n'è andato che ha un concerto oggi pomeriggio, deve cantare, mi stavo dicendo non mi è piaciuto, l'ho comprato all'Eurospin ma francamente non lo ricomprerei più, ma neanche se me lo regala non lo voglio, lo poggio per terra perché è troppo grosso. Come non mi è piaciuto, oro ammorbidente dermatologicamente testato calendula e olio di argan, sempre 40 lavaggi, sempre, che poi vabbè 40 lavaggi è molto soggettivo, sempre comprato all'Eurospin, anche qui molto liquido, non ammorbidiva, zero. No, 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 a me non è piaciuto. Poi, vediamo, vediamo. Fabuloso, ammorbidente concentrato. Allora, questo è un reperto storico. Allora, noi stiamo svuotando la nostra casa delle vacanze in Valsassena perché, perché per motivi vari non ci andiamo più, non la sfruttiamo più e quindi non la useremo più. L'abbiamo svuotata e poi la prenderà il mio cognato e la userà lui. Quindi avevo scorte, ovviamente, di detersivi anche sulla, quindi ho portato giù tutto e sto facendo fuori quello che mi era rimasto, ma vi dirò che è fabuloso, è fabuloso. Allora, questa versione c'è ancora, è cambiata l'etichetta perché questa cosa qua risalirà forse a 5 anni fa, è cambiata l'etichetta ma questa versione c'è ancora perché l'ho appena ricomprata, c'è ancora la faccia del bambino ma più in alto e poi lo vedrete nei finiti del mese prossimo. Cosa vi devo dire? Il profumo è spaziale, è di bianco, un profumo bianco, un profumo di pulito, un profumo che ti avvolge di carezza, per me sono sempre i più buoni. Poi oltretutto questo che era su, praticamente l'acqua è un po' evaporata quindi era diventato denso, ne bastava mezzo nella mia lavatrice da 8 kg e bastava mezzo tappino e profumava, ho tirato dentro i vestiti oggi le lenzuola, gli asciugamani, profumo spaziale quindi io vado, rivado, compro, provo ma il fabuloso per me è il mio amorbidente del cuore, mi piace troppo. Poi finito un altro sgrassatore della Conadac utilizzato sempre per gli stessi motivi. Poi ancora Home Circus, queste ve le avevo già presentate altre volte, sono le tavolette per il water, secondo me sono ottime, aiutano a mantenere il water pulito, sbiancano, per me non hanno uguali, quindi io le compro, le ricompro e anche se provo altre marche poi ritorno sempre sull'Home Circus. A me queste piacciono tantissimo. Finito, alga bio, sapone in gel concentrato, famosissimo della alga, questo l'ho usato per varie pulizie e per lavare dei capi, l'ho utilizzato a mano, l'ho utilizzato per lavare i maglioni di lana che ho messo via quest'estate che tra un po' ritorneranno, spero. In uso l'ho usato per lavare i capi a mano in seta, l'ho usato per la lavatrice, per me è buonissimo. Ho trovato adesso finalmente al Eurospin, il famoso detergente, detersivo della Cial, che come formato e come colore assomiglia molto a questo, l'ho utilizzato ieri e vi devo dire che secondo me, a mio parere, è molto molto meglio di questo. Questo a me piace tantissimo e questo l'ho usato altre volte e mi piace, però devo dire che quello della Cial mi piace ancora di più. Finalmente l'ho trovato, ne ho comprati due perché se poi non lo trovo più il mio Eurospin è piccolino, non ha tutti gli aggiornamenti che ci sono negli altri Eurospin. comunque questo mi è piaciuto, ha un profumo, allora, un profumo fiorito, se devo essere sincera non sa di sapone concentrato tipo in Marsiglia. Un profumo molto delicato che mi piace. Vabbè, questo comunque è famoso, insomma, è buono, è proprio buono. Candeggina classica, sbianca e igienizza e questa la uso esclusivamente per candeggiare. Candeggiare e qualche volta la metto negli scarichi dei lavandini e della doccia perché ogni tanto sale qualche odorino non proprio piacevole e questa mi aiuta a mantenere pulito lo scarico e profumato. Conad, qualsiasi altra candeggina a me vanno bene tutte, insomma, cioè tutte fanno lo stesso lavoro, tutte candeggiano e quindi mi vanno bene tutte. Quando c'è l'offerta la prendo. Finiti questi due profumatori per la lavatrice. Uno mi è piaciuto di più, l'altro mi è piaciuto di meno, ma a livello di profumo, che ovviamente io non provo mai nel negozio, non fatelo perché davvero è... si apre, è vero, dice un profumatore cosa vuoi che abbia il PAO, questo ti dura dieci anni, ho capito, però non è mica bello che uno vada a casa e si trova il... ecco, questo forse non mi era piaciuto, era molto molto intenso. Feel good fantasy. bestia. Ha un profumo quasi dolciastro, caramellato, non mi era piaciuto proprio tantissimo. Mentre questo che è Smile, questo mi era piaciuto. È un fiorito un po' agrumato e non così tanto intenso. Questo è veramente intenso. Questo se sbagliavo, metterne dentro, gli davo una spruzzatina in più, il profumo era proprio forte, quindi questo non lo ricomprerò più. Mentre questo lo ricomprerò ancora, visto che erano in sconto ultimamente. Poi vabbè, io ne ho di giro forse 20 bocgettini di vari, quindi vabbè, con i profumi io sono così, e lì sei così con tutto, con i profumi, con la cosmesi, con la lana. Avete ragione, avete ragione. Cosa vi devo dire? I profumi, ragazzi. Ho comprato di quei profumi, devo farvi un video sui profumi utilizzati, i profumi che ho comprato per l'autunno, i nuovi profumi. Avremo un autunno ricco di novità. E va bene, dopo queste cagate che ho detto, quindi questo mi è piaciuto, questo non mi è piaciuto. Io ho finito il mio svuotamento di borse. Sono contenta di essere ritornata, di avervi ritrovato. E nulla, ma ve l'ho detto che ho fatto il trasloco dell'azienda, no? Perché oltre all'estate comunque intensa, movimentata, nel frattempo abbiamo fatto anche il trasloco aziendale, che era in programma, ok, ma era in programma forse a settembre, forse a luglio, forse non si sapeva, però l'ufficio contabilità va giù prima, va giù dopo, boh, chi lo sa, ok. E da una settimana che io e la mia collega Lella, ciao Lellina, siamo nel nuovo ufficio, quindi anche lì abbiamo dovuto pulire, sistemare le scrivanie, abbiamo acceso le candele, abbiamo comprato le tisane da farci, abbiamo messo lì un ufficetto che è veramente una meraviglia, speriamo di riuscire a tenerlo così, però è stato faticoso anche quello, ma anche a livello psicologico, perché dopo 23 anni, perché gli altri 10 li ho passati sempre con la stessa azienda, ma in un altro luogo che era in faccia dove ero adesso, 23 anni nello stesso ufficio, insomma, mi è spiaciuto un po' lasciarlo, ma mi è piaciuto anche arrivare nel posto nuovo, insomma, dove c'è tutto nuovo e pian piano si sistemerà tutto, con i visaggi di un trasloco di un'utensileria che rivende utensili e piccoli rondelle, viti e molle, quindi voi immaginatevi, non noi, io e la mia collega che siamo in contabilità, immaginatevi chi ha dovuto fare poi il trasloco di tutti i cassetti, di tutte le cose che non siamo ancora a posto, ma va bene così, va bene così, il posto è bello, il posto è nuovo, però avevo anche questo carico psicologico, insomma, quindi è stata un'estate veramente molto ricca di emozioni, molto ricca di cose nuove, molto bella, adesso siamo pronti per ripartire, ah, ho fatto il secondo buco, cioè erano 50 anni, no, 52 anni, quindi no, erano penso 30 anni che volessi fare il secondo buco, non l'ho mai fatto, sono entrata settimana scorsa in farmacia, perché poi ho rimesso gli orecchini, avevo smesso di rimetterli perché mi facevano infezioni, mi davano qualsiasi tipo di orecchini, anche quelli d'oro, quelli d'argento, quelli alniche, quelli trattati, insomma, io c'è stato un periodo in cui non sono più riuscita a mettere gli orecchini, quest'estate ho riprovato e non mi hanno più fatto infezione, quindi mi sono tenuta i miei orecchini normali e poi ho detto, vabbè, sai che cosa faccio, vado a farmi anche il secondo buco, entro in farmacia e dico, buongiorno, voi fate il buco agli orecchi? Sì, è per sua figlia, no, è per me, ah, dico, vorrei fare il secondo buco, ah, quindi un buco solo, sì, e vabbè, niente, ho fatto il secondo buco e sono contenta, e magari farò anche il terzo, e poi forse farò un tatuaggio, e poi ci saranno tante belle cose nuove, e va bene, adesso chiudo, perché sto dicendo un sacco di cretinate, vi saluto, vi auguro una buona domenica pomeriggio, adesso spero di montare tutto, e poi ci vedremo, ci vedremo, ci vedremo, ci vedremo sicuramente per i finiti beauty, perché anche lì non ci stiamo più nel bagno, abbiamo uno scatolone gigantesco, poi voglio farvi vedere qualche acquistino, poi parleremo di profumi, ma parleremo anche di libri, parleremo di tante cose, quindi state sintonizzati, che ci faremo compagnia in questo autunno prossimo avvenire. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando tanti baci, e a presto, ciao, ciao ciao!